Per migliorare la gestione del diabete a livello globale, con un progetto di prevenzione è stato testato un nuovo strumento a supporto della presa in carico integrata dei pazienti. Sentiamo. Il progetto Fuglianet è arrivato a felice conclusione e a tanti aspetti strategici importanti. Quelli che a me personalmente piacciono di più sono due. Il primo concetto è quello delle cure connesse, connesse grazie alla tecnologia più comune che utilizziamo tutti i giorni, che è quella del web, utilizzata per fare cura, assistenza, diagnosi, ma anche empowerment del paziente. E il secondo aspetto è quello delle cure integrate, perché mettono insieme diversi ruoli. Ruoli assistenziali tradizionali, come quello del medico specialista, diabetologo in questo caso, il fermiere care manager, il nutrizionista e anche il paziente, che non è solamente destinatario di cure, ma è anche un coattore del processo assistenziale. Per quanto riguarda la sperimentazione in Puglia del protocollo Fuglianet, abbiamo rilevato risultati interessanti e molto promettenti. Infatti oltre un terzo dei pazienti che sono andati in fondo al protocollo hanno mostrato miglioramenti nei livelli di food literacy ed oltre il 56% nei livelli di patient engagement.